Perché abbiamo portato l'ambasciatore israeliano a fiuggire? Ma perché l'ambasciatore israeliano, Mr. Raffaer Schultz, è venuto a rendere visita, come il suo predecessore un paio di volte, alla Fondazione Levi Belloni. Il rapporto della Fondazione Levi Belloni con le istituzioni ebraiche, governative e associative è molto presente sia in Italia sia in tutta Europa, Stato di Israele compreso. E' stato appena insediato, Redo ci lo accoglie, noi lo stesso, perché noi ci teniamo a far visitare la giudecca di Antigoli, dove lo teniamo a fiuggi, per vedere quei due reperti arqueologici che fanno di fiuggi, quindi di Antigoli, la città capofila dell'ebrisola del Basso Lazio, perché non si trovano reperti ebraici nei vari paesi di Palati, Bel e Via, elencando. E ci fa piacere questo contatto anche con le chiese, questa volta con la confraternita di San Biagio, l'anno precedente con l'altro ambasciatore, la chiesa di Santo Stefano, quella dei pastori. E perché Alatri? Che c'entra Alatri con questa visita? Allora, intanto la Fondazione Francesco Raponi ha sede in Alatri, che è nata già circa sette anni fa e oramai è internazionale. Basta pensare che la Fondazione ha la sede anche a New York e quindi è internazionale. Poi, siccome la Fondazione ha degli scopi culturali, scientifici e anche religiosi, praticamente abbiamo fatto un'associazione anche con la Fondazione Leve Bellone. E quindi la Fondazione Leve Bellone è presidente onorario già della Fondazione Francesco Raponi. Quindi oramai abbiamo questa simbiosi culturale, scientifica e storica.